Vogliamo i nomi delle persone che hanno beneficiato di tutto questo danno. Alla fine lo Stato ci ha danneggiato. Non vogliamo più malasanito rispetto ai 440 che si erano detti. Non vogliamo più malapolitica. Non vogliamo più la pessima qualità di vita che stiamo vivendo. La carenza dei servizi essenziali. I nomi, dei responsabili. Non ce ne basta uno, perché sappiamo che non è uno. Quei parti, comunque, tra tante persone. Noi vogliamo i nomi di queste persone. Perché questi servizi abbiamo... Grazie, adesso aspettiamo la manifestazione. Quattro incontri e vorremmo continuare. Grazie a tutti quanti voi, ovviamente. Pertica. Vigilità, per ora. E mantenere... Mai più! A posi di potere. Mai più! Dispilazione. Mai più! L'invitazione della libertà. Mai più! Stoppare lo sport. Mai più! Comparati. Mauricismi. Mai più! Le persone che hanno fatto tutto questo e che hanno ridotto la sanità. La giorgia. La giorgia. Quella che... Tante cose da dirci. Poi diciamo quante le soluzioni... Eccoli il metto. Giorgi, ci lavoro. E capisco perfettamente le problematiche. Cosa avrà fatto? Uno di quelli che quando ci parli ti viene lo stimolo. Vengono intere famiglie di disoccupati, gente che se... di Renato Raffa in questo... In quest'altro discorso... Due milioni di persone. Senza alcun processo preso. Degni, medici, infermieri, primari che non sono andati lì. Doveva fare il piano per prevenire lei dei quali contagi non... CM con 2 milioni e 500 tipologie di misure di precauzione. Cambiando di volta in volta il caso dello sport, le distanze... Quelle altre cose che il nostro amato Ministro Scalafore in un'intervista al Boni disse allo... Sì, Salvini! Ce ne andiamo per i morti nostri! Perché noi se... Intanto ringrazio... Cercate di prendere un po' quello che mi ha sposti fa. Il grande Leviatano in poche parole...